Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonella Clerici, ricoverata all'ospedale Regina Elena di Roma per un intervento, ha dovuto affrontare un altro duro colpo, la morte del suo cugino Chicco. La conduttrice ha condiviso il suo dolore su Instagram, accanto a una foto del cugino con una rosa e una candela accesa, scrivendo, non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino. Questi sono giorni delicati per Antonella Clerici, che si è sottoposta a un intervento d'urgenza alle ovaie. La conduttrice ha raccontato sui social di essere arrivata a Roma giovedì scorso con l'intenzione di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Tuttavia, il suo ginecologo le ha consigliato di controllare una cisti ovarica, che si è rivelata compromessa, rendendo necessario l'intervento. Clerici ha rassicurato i suoi fan dicendo che tutto è andato bene e che non si è mai parlato di tumore. Nonostante il momento difficile, Antonella Clerici ha affrontato con coraggio sia l'intervento che la perdita del suo caro cugino Chicco. I suoi fan le hanno inviato messaggi di sostegno e affetto, dimostrando tutto il loro affetto per la conduttrice in questo momento di dolore.